Maurizio Nassi, ultimamente per il Gela Calcio si fa insistentemente il tuo nome. Ritornare a vestire la casacca bianca-azzurra credo che sia anche il tuo sogno. Beh, diciamo che da un po' di tempo, anche soprattutto da quando sono arrivato a Gela, che sento il mio nome accostato ai colori del Gela. Per me non è una sorpresa, perché ci fu un primo approccio a dicembre rimandato. Se così fosse basterebbe una chiacchierata da me e il presidente, perché da parte mia non ci sarà mai il problema per tornare a Gela. A dicembre, quando ti chiamo Tuccio, poi perché non si è concretizzato il tuo passaggio al Gela Calcio? Beh, perché lì il presidente del Giulianova e soprattutto l'allenatore assolutamente mi negarono il trasferimento a Gela, perché c'era un campionato in corso, perché io ero una pedina importante, fondamentale per il gioco del mister, quindi non se ne piace nulla. Addirittura, oltre al tuo nome, si fa anche il nome di Peppe Mascara, ex del Catania, la passata stagione al Siracusa che ha portato in Serie D. Dunque si potrebbe costruire un tandem d'attacco non differente per un campionato di eccellenza? Di certo sono due nomi importanti per l'eccellenza, ma due nomi che farebbero e porterebbero tanta esperienza, tanta carriera alle spalle al Gela, dove secondo me è giusto che il Gela torni a quei livelli che eravamo abituati, perché è un peccato vedere il Gela in eccellenza, soprattutto vedere i tifosi e la città in campionati minori. È giusto fare qualcosa per portare il Gela dove è giusto che ritorni ad essere. Sorpreso dei 1.500 e passa tifosi presenti alla finalissima di San Cataldo contro il Troina, parliamo di finalissima di promozione. Io ho rivisto le immagini in un video e non ti nascondo che le ho fatte vedere dai miei compagni di squadra Giulianova che sono rimasti sbalorditi. 1.500 persone per una partita di promozione, credo che solo a Gela si possano fare queste cose. Quindi questo fa capire che c'è la voglia di tornare allo stadio, quindi bisogna fare qualcosa per portare il calcio a Gela, ma in maniera importante, e far sì che invece di 1.500 siano sempre di più. Tu sei legato al Giulianova fino al 30 giugno prossimo, però fra qualche giorno Tuccio ti dovesse chiedere viene vestito la maglia bianca azzurra, risponderesti di sì. Sicuramente andrei a parlare con Tuccio in maniera serena, sa benissimo, perché ci siamo sentiti tantissime volte, che non c'è nessun tipo di problema da parte mia. Quando e se verrà, non lo so, o arriverà la chiamata di Tuccio, sicuramente non ci saranno problemi. Grazie. Grazie. Grazie.